Retroscena Zgzesny prima del rigore, scommesso 100 euro commessi. Doha, Qatar, se la Polonia è approdata agli ottavi di finale dei mondiali in Qatar come seconda classificata nel gruppo C, per una migliore differenza reti rispetto al Messico, lo deve soprattutto a Wojciech Zgzesny. Il portiere polacco della Juventus infatti, dopo aver parato un rigore al Duasari nel match contro l'Arabia Saudita. Si è ripetuto nella sfida contro l'Argentina ipnotizzando Messier e spingendone la conclusione mancina dal dischetto con uno spettacolare intervento. Zgzesny, il rigore parato ha messi Costitution Record e ho ipnotizzato un penalty generoso quello concesso alla selezione nel finale del primo tempo dall'arbitro olandese Danny Mackelie. Che dopo essere stato richiamato al video dal VAR ha considerato falloso un contatto in area polacca, proprio tra il portiere Juventino e la Pulce, avvenuto nel finale del primo tempo. Nel post partita poi lo stesso Zgzesny ha rivelato ai microfoni di TV2 Sport cosa è successo in quei minuti di attesa. Mentre il direttore di gara era impegnato nella on-field review e lui parlottava con il numero, 10, argentino. Abbiamo parlato prima del rigore e gli ho detto che avevo scommesso 100 euro che non l'avrebbe dato ha rivelato sorridendo il polacco. Che con una battuta è riuscito così a deconcentrare il capitano dell'Argentina, ho perso una scommessa contro Messi. Non so se ai mondiali si è consentito scommettere, forse mi penalizzeranno. Comunque non lo pagherò ha concluso scherzando Zgzesny, ha già abbastanza soldi. Virgola.